Ci troviamo nel cuore di Cannalonga dove dal 9 al 13 di settembre ci sarà la famosissima fiera della Frecagnola. Noi adesso ci avviamo per il percorso che giungerà poi alla baracca di Onofrio e Carmela dove si potranno degustare tantissimi prodotti della dieta mediterranea, in particolare la carne di capra e tantissime altre prelibatezze. Dopo la piazza del popolo a Cannalonga durante il percorso si giunge verso il ponte e si potrà accedere alla baracca di Onofrio e Carmela dove si potranno degustare delle specialità a base di capra e non solo. Siamo quasi giunti in località Ponte e mi viene incontro il proprietario della baracca Onofrio. Allora Onofrio, tutto pronto per questa fiera della Frecagnola? Sì, siamo pronti per questa fiera, questa manifestazione che è una cosa bellissima e che credo sia unica nel Cilento per due motivi. Al di là del prodotto che facciamo questa capra bollita dove molti ci vogliono imitare ma non ci riescono. E poi è una festazione che richiama, c'è un richiamo della regione credo, non della provincia, della regione Campania perché vi posso dire che ho dei clienti che vengono sia da Napoli, qualcuno viene da Roma e soprattutto faccio un saluto a un signore che viene da New York, in questi giorni sicuramente sarà a Torchiara e lui il venerdì sera è qua da me per venire a mangiare questa capra bollita. I numeri sono sempre molto elevati, ogni edizione di questa fiera storica. La riprova è anche l'ottimo cibo che voi di Canna Longa offrite a tutti i turisti ma anche ai cittadini. Ecco, quali sono le specialità? Allora, io nel mio stand faccio un antipasso di prosciutto locale con formaggio, capra pecora, poi due mozzarella di mortella più due carciofine rossiti. Poi c'è il primo, i fusili con il sugo di castrato, che gli altri non lo fanno, lo faccio solo io e dentro ci faccio sia la braciola e la cosudola a volte, quanto riesco. Poi c'è la capra bollita, che è il piatto tipico, quello che ci richiedono tutti e quello che va dalla barilla maggiore. Poi abbiamo alla griglia, abbiamo delle salsicce, bissecche e quest'anno voglio fare del pollo al rosso perché mi rendo conto che c'è una buona richiesta di pollo e allora voglio fare il pollo per cambiare. Perché prima ci fanno l'agnello, però voglio fare il pollo per provare una novità, se ci riesco. Poi sarà dei contorni, sempre locali, melenzane e arrossite che facciamo noi, più insalata di pomodori. Dell'ottimo vino, pane casereccio, allegria, servizio, gentilezza e cortesia. E soprattutto noi cerchiamo di fare in modo che chi viene da noi si trova benissimo perché ci deve ritornare. Il mio motto, io sono al di là di quello che dicono gli altri, noi siamo al ventiquattresimo anno che siamo qua. Abbiamo visto tutti i colori e siamo sempre qua per questa tradizione che è una cosa bellissima perché il paese si feste in festa, allora c'è un'affluenza spettacolare, allora noi ci lavoriamo per questo, non per il resto perché a noi, parlo con sincerità, i soldi non ci interessano. Voi portate avanti una tradizione, quindi un variegato menù, gentilezza e cordialità, le parole d'ordine. Quindi mi raccomando, 300 posti a sedere nella baracca di Onofria, quindi c'è tantissimo spazio. Che dire, ragazzi, mi raccomando, non mancate, questo è un appuntamento davvero importante, anche per riscoprire un borgo veramente molto carino e dei sapori unici del Cilento.